Grazie a tutti. 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 bravo, bravo Tommaso, bravo vai Tommi, vai Tommi, vai bravissimo Tommi, dai rosso rosa verita, ma via rosa 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 ma era ora ma era ora ma io tenevo ancora il tempo io ho fatto un salire ora dai Vai Tomi, passa lì, bravissimo. Bravo Tomi, bravo. Cambio di là, cambio di là. Occhio, vai. 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 Dai, Simone. Dai, Simone. Dai, Simone. Dai, ciao. Dai, passa di qui però adesso te. Vi, ti ho avanti. Ti ho avanti. Ti ho avanti. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. , ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. , vai a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. , vai a tutti. , 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 vai, vai, vai. , vai, vai, vai. , vai, vai, vai. , vai, vai, vai. , vai, vai. , vai, vai, vai. , vai, 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 vai. , vai, vai, vai. , vai, vai. , vai, vai, vai. , vai, 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 vai. , vai, 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 vai. , vai, 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 vai. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Aiuto! Aiuto! Dai tommi! Ma non si stava bene, ma chi era? Sì, stava bene. Sì, stava bene. Carico! E' un po' più. E' un po' più. E' un po' più. Su tutto! Dai! Dai su! A lontani! Vai tommi che buona! Vai tommi! Sì! Scusa la mia! Vai tommi! Vai tommi! Vai tommi! Vai tommi! Vai tommi! Vai tommi! E' una testata! 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 che lunedì non va a scuola? è contentissimo ma lunedì non va a scuola adesso è un figlio ma chi c'è? il mio vacca mi date la scuola è il suo che non va a scuola lunedì io si insegna la scuola al pomeriggio non fanno la mattina la scuola è l'auto oh no dai il mio segno è finita devi fare una sera stasera oggi Simo due giorni senza scuola si fa il gol dai che tutto è oggi? non è che non è che mi sei a casa? ma tu vai a scuola anche di domenica non è così? piano vai Toma ti paga la pizza papà stasera non credo proprio bravo Davide bravo Toma e ogni tanto questo accade bravo Davide bravissimo vai il mio bono siiii siiii abbiamo vinto lo stesso adesso ho detto non vedete le scatole si 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 no ho detto l'X non è 1 o 0 no appunto bene chi ha risposto la partita quello di lavorare massi massi per l'amor del città ma basta ma basta infatti la metteria è diversa per la panetta è diversa ora ragazzi è l'auto